Prima la violenta, poi la minaccia per giorni di non dire niente a nessuno e infine tenta anche di abusare di lei per una seconda volta. La vittima, una bambina di 12 anni che dopo un mese di silenzio è riuscita a denunciare il suo aggressore, un peruviano di 20 anni arrestato dai carabinieri nella notte del 4 maggio con il reato di violenza sessuale aggravata. Le indagini hanno avuto inizio nella mattinata del 3 maggio dopo che un'onduregna di 30 anni si è presentata presso il comando tenenza dei carabinieri di Pioltello denunciando di aver saputo dalla figlia di 12 anni che la piccola era stata vittima di una violenza sessuale alcune settimane prima. I militari, con l'ausilio di una psicoterapeuta, hanno quindi ascoltato la 12enne apprendendo che il 3 aprile 2021 la bimba viene avvicinata in un condominio del quartiere satellite di Pioltello da un sudamericano conosciuto su Instagram che abita nel suo stesso quartiere, il quale la obbliga a salire sul terrazzo dello stabile costringendola a subire un rapporto sessuale. Nei giorni seguenti l'aggressore continua ad inviare diversi messaggi alla minorenne con il chiaro intento di intimidirla a non denunciare le violenze subite, mostrando anche una morbosa gelosia nei suoi confronti. Il 25 aprile inoltre la bambina viene nuovamente avvicinata nello stesso luogo dal sudamericano, il quale la afferra per un braccio nel tentativo di ripetere la violenza sessuale, ma la 12enne riesce a sfuggire dalla morsa dell'uomo e fare rientro a casa. I carabinieri, grazie al racconto, hanno poi raccolto in poche ore gravi indizi di colpevolezza a carico del ventenne peruviano, procedendo al suo fermo. I militari hanno esteso la perquisizione all'abitazione del ventenne, dove hanno effettuato il sequestro degli indumenti indossati dall'uomo durante la violenza. L'uomo, dopo l'udienza di convalida del fermo, si trova ora nel carcere di San Vittore.